Ciao da Francesco Nano di ScuolaSuono.it Ti presento la nuova videoguida di Gabriele Cento a proposito della scheda audio PreSonus Audiobox Non ho idea di quante schede audio abbia Gabriele Cento Fa presentazioni sulle schede audio a manetta Avrà un negozio di schede audio, che ne so La videoguida è interessante perché tratta di una piccolissima scheda audio Due canali con dei pre di classe A, quindi ben progettati da PreSonus Ad un costo decisamente accessibile Quindi ti lascio le parole di Gabriele, buona visione Ti invito poi a guardare il video di approfondimento Perché in quel video ti racconterò che cosa mi fa vedere in mente Che cosa mi fa tornare alla mente la parola PreSonus Ciao da Francesco Un saluto a tutti gli amici di ScuolaSuono.it Ed appassionati di recording Sono Gabriele Cento e vi parlo dal mio home studio di Milano Puoi visitare la mia pagina profilo ScuolaSuono per ulteriori dettagli Nella videoguida di oggi parleremo della PreSonus Audiobox La PreSonus Audiobox è una piccola interfaccia audio Estremamente portatile Dotata di connessioni sia audio che midi È un piccolo strumento che ci consente di lavorare Anche in condizioni diciamo mobili Ecco quindi in caso di registrazioni Dove non ci troviamo nel nostro home studio Quindi si rende molto utile per l'utente Che ha necessità di andare a registrare all'esterno E gli offre tutte le potenzialità necessarie per svolgere queste operazioni È dotata di due ingressi preamplificati Su connettori ibridi Quindi possiamo allacciare a questa scheda sia strumenti che microfoni Inoltre questi ingressi appunto sono preamplificati E dotati di phantom power Quindi possiamo anche collegare alla scheda dei microfoni a condensatore Abbiamo controlli per le cuffie Con un'uscita dedicata Un'uscita stereo per i monitor Le connessioni midi standard E il tutto è alimentato semplicemente Da il cavo USB Che connetterà la nostra scheda al computer La cosa interessante è che Come dicevamo prima La scheda è dotata di una coppia di uscite per i monitor E di una uscita stereo per le cuffie Entrambe le uscite Possiedono dei controlli di volume indipendenti E questo è sicuramente un vantaggio Per chi ha necessità di ascoltare su due sistemi diversi Che può essere il primo la cuffia E il secondo il sistema di monitor Nel prossimo video scoprirai tutte le caratteristiche Che rendono questo oggetto particolare e indispensabile Ti ricordo che per accedere a questo video di approfondimento Dovrai gentilmente effettuare la registrazione gratuita